Sono passati dieci anni, dieci anni di lungo lavoro per spostare la caserma della polizia stradale da Roiano a Via Mascagni. Oggi la caserma è una realtà, Roiano è rimasta ferma, almeno si potevano aprire i cancelli per aprire gli spazi ai cittadini. E mia intenzione è creare una piazza, un mega parcheggio e la scuola materna. Credetemi cari concittadini, è arrivato il momento di farlo. Domenica 5 giugno, per votare Roberto di Piazza, metti una X sul nome Roberto di Piazza. Grazie a tutti.